fermati è il momento della pratica del silenzio sediti con la colonna dritta chiudi gli occhi e porta l'attenzione al corpo troviamo una posizione comoda dove il corpo si trova nello stato di completo rilassamento senti ogni singolo muscolo completamente abbandonato nessuna tensione completamente abbandonato sento il corpo pesante i miei muscoli sono pienamente rilassati e senza alcun tipo di tensione il corpo è immobile e calmo il corpo è abbandonato e i muscoli distesi il corpo è fermo calmo immobile provo un profondo senso di rilassamento fisico respiro lentamente attraverso le narici inspiro ed espiro in modo armonico e ad ogni atto respiratorio il mio corpo diventa sempre più rilassato respiro lentamente attraverso le narici inspiro ed espiro in modo fluido e ad ogni atto respiratorio mi sento sempre più calmo respiro respiro lentamente attraverso le narici inspiro ed espiro in modo fluido e ad ogni atto respiratorio mi sento sempre più sereno inspiro 2 3 4 trattengo 2 3 4 espiro 2 3 4 5 5 6 trattengo 6 inspiro 2 3 4 trattengo 2 3 4 espiro 2 3 4 5 6 trattengo 2 inspiro 2 6 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 6 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 5 6 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 5 4 6 4 5 4 5 6 5 6 4 5 5 6 3 4 5 7 7 8 trattengo due, inspiro due, tre, quattro, trattengo due, tre, quattro, espiro due, tre, quattro, cinque, sei, trattengo due, ora che il nostro respiro è sereno, corpo e mente seguono questa condizione di calma. Le emozioni hanno un decorso temporale e sono attivate da eventi interni o esterni a noi. Ti invito a vedere l'ansia, la rabbia, la paura, l'allegria, la tristezza, la vergogna o qualsiasi tipo di emozioni come dei maestri. Maestri che ci indicano la sua causa di esserci, perché possiamo comprendere meglio chi siamo, quali sono le nostre credenze, quali sono i nostri condizionamenti, quali sono le modalità con cui gestiamo la nostra vita. In questo stato di profondo rilassamento e piena presenza, lasciamo da parte qualsiasi tipo di giudizio nei nostri confronti e osserviamo ogni singola emozione che cosa ci comunica di sensazioni a livello fisico e respiratorio. Ansia, tu che sei la madre del controllo degli avvenimenti, la padrona degli aspettativi, tu che fai previsioni compulsive sul mio futuro fondate sulla fantasia di cose inconcrete. Ansia, tu che rendi il mio respiro corto, accelera il mio battito cardiaco e mi aumenti la sudorazione, rendi i miei muscoli rigidi al punto di avere crampi muscolari. Ti osservo e rispetto e accolgo i tuoi insegnamenti, trasmuttandoti nella tua antitesi. inspiro calma ed espiro ansia, inspiro calma ed espiro ansia, inspiro pazienza ed espiro ansia, inspiro presenza ed espiro ansia, inspiro presenza ed espiro ansia, inspiro presenza. ed espiro ansia, inspiro presenza ed espiro ansia. rabbia, tu che sei figlia della paura, del vittimismo, ma madre della reattività e della violenza e ti manifesti quando mi sento minacciato. ingiustiziato, escluso e giudicato. rabbia, tu che agiti il mio corpo mettendomi nello stato di prontezza all'attacco, che accelera il mio respiro e il mio cuore e fa venire i crampi allo stomaco. ti osservo e rispetto e accolgo i tuoi insegnamenti, trasmuttandoti nella tua antitesi. inspiro calma ed espiro rabbia, inspiro calma ed espiro rabbia. inspiro serenità ed espiro rabbia, inspiro serenità ed espiro rabbia. inspiro equanimità ed espiro rabbia, inspiro equanimità ed espiro rabbia. paura, tu che ti presenti quando mi sento incapace di affrontare le situazioni, tu che nasci per metterli in alerta per un reale pericolo ma ti uso in modo inappropriato. paura, tu che rendi il fiato corto, il cuore accelerato e spesso la bocca secca. ti osservo e rispetto e accolgo i tuoi insegnamenti, trasbottandoti nella tua antitesi. inspiro coraggio ed espiro paura. inspiro coraggio ed espiro paura. inspiro coraggio ed espiro paura. paura, spiro coraggio ed espiro corываемità. inspiro coraggio ed espiro coraggio ed espiro buona mant�"... inspiro regole ed espiro paura. inspiro coraggio ed espiro paura. inspiro tranquillità ed espiro paura inspiro tranquillità ed espiro paura tristezza tu che ti manifesti quando le mie aspettative non sono soddisfatte quando mi giudico incapace di aver raggiunto un risultato o compiuto una certa azione come mi aspettavo tristezza tu che rendi la mia postura curva e chiusa che mi fai sentire col pianto in golla che mi toglie l'appetito e a volte anche il sonno ti osservo e rispetto e accolgo i tuoi insegnamenti trasmuttandoti nella tua antitesi inspiro allegria ed espiro tristezza inspiro allegria ed espiro tristezza inspiro gioia ed espiro tristezza inspiro gioia ed espiro tristezza inspiro buon umore ed espiro tristezza inspiro buon umore ed espiro tristezza e inspiro buon umore ed espiro tristezze emozioni vi rispetto vi accolgo e nel silenzio della mente e quieto del corpo medito e 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